Viaggiava in contromano con il suo furgone in autostrada nel cuore della notte, schivando i veicoli in arrivo, a riprenderlo le telecamere di sorveglianza dell'autostrada A6, la Torino-Savona, nel tratto del Cuneese tra Marene e Fossano. La segnalazione è arrivata nella notte del 3 luglio all'1.30 circa al centro operativo della polizia stradale di Torino. Una vettura stava percorrendo contromano la carreggiata in direzione nord. Immediatamente sulle ricerche del veicolo la polizia stradale di Cuneo. Lo stesso veicolo stava viaggiando in direzione opposta anziché procedere verso Torino e solo dopo alcuni chilometri percorsi in contromano. Come si vede dalle immagini, l'autista del furgone Doblò ha fatto poi inversioni di marcia direttamente in corsia, compiendo un'altra infrazione, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e altrui. L'autista, che sembra non essersi accorto di ciò che stesse succedendo fino a quel momento, è stato poi fermato da una pattuglia della polizia insieme a un'auto della viabilità autostradale nei pressi dello svincolo di Fossano. L'uomo è un cinquantenne residente fuori provincia, risultato poi negativo all'alcol test e a quello antidroga, ma ha trovato in stato confusionale, quindi soccorso e trasportato all'ospedale di Savigliano per accertamenti. Per il cinquantenne è scattata una multa per violazione al codice della strada, con il ritiro della patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Una storia che poteva concludersi molto peggio, ma per fortuna ha avuto un lieto fine perché non si sono registrati incidenti né danni e feriti.